Buongiorno 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 Qui vedete qual è la situazione alle 7.20 di oggi. Tanta neve, un po' di foschia, ma oggi si presuppone che sarà una giornata piuttosto soleggiata, soprattutto nella provincia di Pesaro Urbino. Poi il meteo lo mostreremo a fine rassegna. Intanto però io oggi voglio iniziare con una bella notizia che arriva dalla regione Marche, che arriva esattamente dalla zona del Maceratese. Il paperone delle Marche gratta e vince 2 milioni. Colpo grosso al bar coltagliando da 20 euro del gratta e vinci. Scatta la caccia per questo Mister X. Le titolari che le vedete qui nella foto, che sono molto contente, dicono Noi non abbiamo capito assolutamente chi può essere il vincitore o la vincitrice di questi 2 milioni con il gratta e vinci. Certo è che all'on the road caffè di Montelupone, siamo esattamente nel Maceratese, la dea bendata è quasi di casa. Infatti nel 2011, quando il locale si trovava ancora a circa un chilometro da qui, un cliente vinse un milione di euro sempre con un grattino. Deve essere una zona fortunata questa. Ma ricordo bene che il 29 gennaio 2016 un altro avventore tornò a casa con 10 mila euro. Diverse sono anche le vittorie marchigiane da 2 o 5 milioni. Sempre nel 2021 anche il pesarese ha avuto la sua bella fetta di gloria. 5 milioni, non so se vi ricordate, vinti alla Lotteria Italia a Pesaro nel 2021. E poi, mentre nella tabaccheria del corso di Fossombrone nel 2019, un sessantenne centrò un colpo da 5 milioni. Ma attenzione perché Montappone però rimane il record perché qui è stata fatta una vincita. Nel 2022 maggio 2021, un giocatore che è ancora ignoto, portò a casa la bellezza di 156 milioni di euro con il jackpot al Super Enalotto. Quindi insomma, iniziamo con queste belle notizie proprio per mostrare, dare un po' di segnale di speranza. E anche nella regione Marche si vince a quanto pare. E quindi complimenti a quello che ha vinto, appunto, 2 milioni di euro con un grattino da 20 euro. Cambiamo argomento, torniamo alle notizie della cronaca. Alcune positive, alcune negative. Qui però ce n'è un'altra positiva perché ieri nella sala metaurense della prefettura si sono incontrati i sindaci della provincia di Pesaro Urbino, capitanati dal vice sindaco Daniele Vimini, per avviare questa grande squadra del 2024. Perché Pesaro nel 2024 sarà capitale della cultura, ma non sarà sola. Perché saranno organizzati eventi e iniziative che coinvolgeranno tutta la nostra provincia. Si torna a parlare anche delle torri al porto, ora il cantiere può ripartire, quindi a breve vedremo insomma ripartire i lavori in questo buco che c'è attualmente al posto dell'ex consorzio agrario, ma in tempi veloci, suppongo, cresceranno queste torri. Finisce con tre assoluzioni appunto il processo per abuso edilizio, ma il procuratore dice che quell'opera è illegittima. Il gruppo GMV in arrivo, parla il presidente Ettore Sansavini, Sanità alla discesa dei Romagnoli a Villa Fastigio, è tutto pronto per la nascita di Cotignola 2. E poi notizia che riguarda lo stadio Benelli, sono stati stanziati ieri l'annuncio da parte del sindaco, 900 mila euro per rifare il campo da calcio, rifiuti, rispunta il progetto della discarica a Petriano e poi oggi si torna a parlare di questo processo. Ieri sono stati ascoltati altri testimoni di questo allenatore che molestava alcuni ragazzi minorenni che giocavano nella squadra appunto che allenava di calcio. E allora andiamo un po' a vedere le opere annunciate dal comune. Lo stadio Benelli qualcosa si muove, si ha i lavori per rifare il campo. Vedete qui appunto la situazione e la foto di uno stadio, di un campo completamente allagato durante l'ultimo alluvione, tant'è che si è dovuta rimandare poi la partita. La Giunta ha deliberato 900 mila euro per il fondo disastrato. Intervento e campionato concluso, intervento a campionato concluso chiaramente. I tifosi dicono bene, ma perché soltanto per il calcio si va avanti a pezzi serve un progetto complessivo. Quindi ok, i tifosi dicono sembra che ci danno dei contentini, sembra che mettono le pezze, ma per questo stadio bisogna fare un progetto un po' più strutturato e organizzato. Intanto c'è la notizia per quanto riguarda la rotatoria tra Statale e Via Milano. È stato approvato anche il progetto definitivo di una nuova rotatoria tra la Statale Adriatica e Via Milano. È un'opera di completamento dell'intervento di Largo Tremartiri che abbiamo già concluso. La circolazione sarà quindi regolata tramite l'opera a cui andrà ad aggiungersi anche la messa in sicurezza dell'accesso sulla Statale per i veicoli che provengono da Via del Carso. E poi ci sono anche notizie che parlano del vecchio Palace. Al momento sono arrivate 5 offerte per il completamento. La gara per i lavori ancora da definire in viale dei partigiani, che sono i prossimi lavori, 3,6 milioni di euro, è alla fase finale. Venerdì sapremo quale sarà la ditta prescelta e così potranno, questa nuova ditta, potrà procedere con la fine di questi lavori, soprattutto interni, del vecchio Palace. E poi si parla anche delle torri al porto, queste palazzine che nasceranno e che ospiteranno tanti appartamenti in una location unica perché siamo proprio nel porto di Pesaro e che hanno avuto un iter che adesso non vi stiamo a raccontare ma che potete leggere nell'articolo di Elisabetta Rossi. È un iter molto molto lungo che è partito tempo fa. A fine gennaio 2021, dopo l'abbattimento del vecchio Consorzio Agrario per costruire le torri, la Procura apre questa inchiesta per abuso edilizio con tre persone indagate. I lavori praticamente si bloccano completamente. La sentenza riaccende i motori delle ruspe, quindi cadono queste accuse di abuso edilizio nei confronti degli imputati della nuova Portum. Ora può ripartire la costruzione, e qui vedete, di questi due grandi palazzi. È molto soddisfatta, nuova Portum che dice abbiamo sempre agito nel rispetto delle normative e abbiamo sempre avuto fiducia nell'operato della magistratura. E poi ritorniamo a parlare di questa vicenda e quindi ci spostiamo in tribunale perché sta andando avanti questo processo. La vittima è un 14enne all'epoca dei fatti, oggi è più grande. Ha ribadito in aula le accuse a carico del coach del tempo, compresa una strana gita in campagna. Stiamo parlando di alcuni ragazzi che erano minorenni che hanno denunciato un allenatore di Pesaro che allenava in una squadra pesarese. Un allenatore che al tempo dei fatti era poco più che maggiorenne, oggi ha 27-28 anni e dovrà vedersela con tutte queste accuse. Ha riferito ieri, oggi è un ragazzo ma all'epoca era il minorenne, gli abusi subiti dall'ex calciatore di calcio, un 28enne pesarese. Ad ascoltare il suo racconto c'era il legale dell'allenatore. Questo è il primo degli incontri probatori contro il 28enne. Infatti ci sarebbero altre denunce sul tavolo della questura, almeno altre due di altre presunte moleste, sempre contro due baby calciatori. Poi qui parliamo di una persona, questo uomo che oggi ha 27-28 anni, che era già stato condannato per adescamento di minori, minacce, detenzione di materiale pedopornografico. Una vicenda che risale al 2013 e poi dopo dieci anni da quella condanna ecco che il 28enne pesarese si sarebbe di nuovo messo nei guai e quindi ieri c'è stato il racconto, il primo dei racconti che poi verranno ascoltati di questo ragazzo pesarese che all'epoca appunto aveva 14 anni. Ragazzina accusa per maltrattamenti mamma e papà che ora non possono avvicinarla. Stiamo parlando di una storia molto complicata perché questi genitori le avrebbero tolto il telefonino, chiusa in casa, costretta a cambiare scuola e persino ad abbandonare gli studi per andare a lavorare. Sono delle accuse pesanti che arrivano proprio da questa ragazzina che oggi è maggiorenne ma era minore all'epoca dei fatti. Lei l'ha rivolta, questa accusa, ai suoi genitori di origine musulmana anche se non praticanti. E poi ieri vi abbiamo parlato anche noi nel nostro telegiornale di questo progetto che è stato portato avanti da un gruppo di associazioni sull'esempio di quanto è stato fatto a Bologna cioè di porre il limite dei 30 km orari nelle strade in città. E poi questi ragazzi che hanno portato avanti questo progetto si sono appunto ispirati a un progetto già esistente a Bologna il coordinatore Andrea Pirozzi che rivendica più sicurezza. Pensate che dal 2010 al 2020 abbiamo avuto a Pesaro 72 morti per incidenti stradali e due ferite al giorno e quindi questi dati hanno portato a richiedere assolutamente il limite dei 30 orari nelle strade di città. Pesaro diventerà nazionale, sempre più nazionale nel 2024 però come abbiamo detto non sarà sola perché nell'anno della Capitale della Cultura assieme a lei ci saranno i bellissimi comuni della nostra provincia di Pesaro Urbino. Ieri i sindaci si sono incontrati nella sala metaurense della Prefettura assieme ai capitanati, chiaramente dal vice sindaco Daniele Vimini per così iniziare a organizzare, iniziare a fare squadra per questi andiamo sul giornale per favore regia, grazie per iniziare a fare squadra per portare avanti i progetti che andranno fino al 2024. L'annuncio l'ha dato ieri il vice sindaco Daniele Vimini in Prefettura durante questa riunione plenaria con i sindaci sul programma 2024. Il direttore Straccini dice tra le attrazioni 600 singoli eventi e 400 artisti. con i 50 comuni verrà messa a punto una coprogettazione, quindi ieri per la prima volta sono comparsi alcune slide con i numeri legati alle 45 azioni che compongono il dossier, si parla di 400 progetti, 600 singoli eventi e 400 artisti coinvolti. se alle 45 azioni si aggiungono le progettualità allegate ai 50 comuni coinvolti ecco i numeri sono soltanto destinati a salire per andare avanti insomma in questo percorso che ci porta alla capitale della cultura. E poi a Petriano si parla di un progetto per una discarica pronti a confrontarci con i residenti. lo propone Aurora SRL, una società privata con sede a Rimini, che coinvolge subito come partner Marche Multiservizi. L'amministratore si chiama Simone Sammaritani, l'impianto porterà benefici ambientali e occupazionali. Siamo nella zona della FAB, la società coinvolta infatti ha a cuore, vuole puntare la zona della FAB a Petriano, l'area interessata per le sue caratteristiche morfologiche e di composizione del suolo risulta particolarmente adatta ad ospitare un impianto di discarica. L'area prescelta, quella di Riceci, vicino a Ponte Armellina, già compromessa dal punto di vista paesaggistico e quindi questo è l'impianto che appunto a quanto pare porterà benefici ambientali. Intanto, Marche Multiservizi inaugura il depuratore di Montecchio, che raccoglie le acque fognarie di 50.000 abitanti e lo farà venerdì alle 10.30 in via Giuseppe Mazzini, Marche Multiservizi assieme al sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli. E chiaramente noi ci saremo e vi daremo notizia. E poi oggi nelle pagine di Fanno si parla di Anastasia Alashri, qui vedete questa povera ragazza uccisa da suo marito. Ora spunta una zia dall'Egitto che rivendica il figlio di Anastasia. La sorella di Alashri chiede l'affidamento, ma è ormai fuori tempo massimo. Intanto l'omicidio si difende, lei voleva uccidermi e è arrivata con un coltello. Quindi continua ancora la difesa di questo uomo che non ammette di avere alcuna responsabilità e non si sente in colpa affatto se continua a difendersi. Intanto è stata fatta appunto ieri dall'Egitto, dalla sorella di Alashri, dalla sorella dell'uomo che ha ucciso questa donna, la richiesta di avere il figlio con sé. Ma è una richiesta improponibile, impensabile, anche perché l'affidamento ormai è stato già dato ai parenti di Anastasia. E poi sempre a Fanno si parla della ciclabile in Viale Alighieri, al via la sperimentazione. Spariranno, come ben sapete, 39 parcheggi per questa ciclabile. Una soluzione, quella di Viale Dante Alighieri, che non poteva essere rimandata, viste anche le indicazioni arrivate dalla Prefettura dopo gli incontri sollevati dalla Niuco Promo e anche dai residenti. E sempre a Fanno, all'aeroporto Enna che è pronta a investire oltre 3 milioni. Oggi parla il direttore generale Silvia Ceccarelli. Non mi sbilancio sulle cifre, ma potremmo intervenire non solo sulla pista, verso lo sblocco e il nodo dei terreni. Quindi progettualità importanti anche per l'aeroporto Mancini di Fanno. Invece a Pergola c'è stato un blackout di cellulari che ha creato tanti disagi, non solo ai privati, ma soprattutto alle aziende residenti a Pergola. Per 15 giorni, pensate, sono state isolate. Allora qui viene raccontato questo disagio da una imprenditrice, Benedetta Lancia, socia della Comel, una nota azienda che costruisce macchine da stiro, e ha raccontato in questo articolo appunto questo guasto che riguardava una struttura sul Monte Nerone, ma a causa del ghiaccio non si riusciva a intervenire. Quindi l'imprenditrice dice che è stata un'impresa portare avanti un'attività senza avere alcun collegamento internet. Anche l'onorevole Baldelli si era interessato a tutto ciò. Per fortuna sembra che ora il problema sia risolto. E appunto si ringrazia qui Antonio Baldelli, che è intervenuto subito per cercare di risolvere questa situazione appunto nel comune di Pergola. E poi a Urbino invece si parla di restauro, in questo caso nel legato Albani, prosegue nelle ristrutturazioni dei beni storici. Il presidente Nicola Rossi dice abbiamo amministrato e investito bene e quindi adesso si farà un restauro radicale per la sala Raffaello. L'agenzia IMS rimarrà a Urbino, a Guzzi conferma, la Vitri però è perplessa. L'assessore regionale dice che ci sono trattative su questa nuova sede. Il consigliere del PD è invece critica. Allora, IMS e Comune di Urbino sono al lavoro per mantenere l'agenzia in città senza degradarla a punto servizi. L'ho annunciato a Guzzi rispondendo a un'interrogazione di Micaela Vitri che dice però che la risposta di Aguzzi mi delude perché in quasi cinque mesi da quando è emersa la questione non è stata ancora individuata una soluzione definitiva. Ad Apecchio finanziato l'efficientamento del centro sportivo, qui stiamo parlando del centro sportivo polifunzionale di via San Francesco ad Apecchio. e salutiamo tutti i cittadini che ci seguono da Apecchio, la città della birra dove ci sono tantissimi birrifici artigianali veramente ottimi. Ed ora andiamo a vedere la pagina degli spettacoli perché è stato annunciato il programma dell'edizione 2023 del bel canto ritrovato per godere col melodramma. Stiamo parlando di un evento che partirà il 21 agosto e che si propone di riscoprire e recuperare il patrimonio musicale operistico della prima metà dell'Ottocento. Quindi si parlerà di Rossini, di Bellini, di Doninzetti e ci sarà anche un omaggio a Luigi Ricci. Avremo tempo di tornare chiaramente su questo argomento e su questo evento che sarà appunto quest'estate. Intanto vediamo cosa propone oggi il Corriere Adriatico. In apertura si parla di Villa Marina per Over 65. Va avanti il progetto per il residence dedicato alla terza età. Il Comune scrive all'Inps però via i teli e tinteggiate perché questa struttura fatiscente, anche noi abbiamo fatto diversi servizi nel nostro telegiornale, non è più tollerabile di vederla così soprattutto in un viale come quello estivo. Il fondo Aristotele realizzerà il recupero dopo aver individuato sul mercato, chi gestirà il complesso. Anche qui vedete questo buco dell'ex consorzio agrario che in breve tempo si suppone vedrà il nascere di queste due fatidiche torri che conterranno tantissimi appartamenti. E poi nasce un comitato per imporre in città i limiti dei 30 orari. Abbiamo visto a Fano, Caldai e Impianti, la corsa per garantire il caldo nelle classi. Infatti il Comune si sta muovendo per cercare di garantire un clima migliore negli istituti scolastici. E poi anche qui è stata approfondita un po' di più la notizia di questa ragazza che scappa di casa e denuncia la famiglia. Poi lo rivedremo bene. Intanto però diamo un'altra bella notizia. Così come abbiamo aperto vedendo la vincita che c'è stata nella regione Marche diamo un'altra bella notizia che riguarda la nostra regione. Bye Bye coronavirus, 8 comuni su 10 sono quasi immuni o quasi. Quindi su 227 centri marchigiani 95 hanno 0 contagi e altri 92 meno di 5. Ancona in un anno è scesa da 3617 positivi a 65. Pesaro da 4261 a 32. L'ultimo report settimanale ha registrato un rimbalzo di casi ma c'è un solo ricoverato per covid nei reparti di terapia intensiva. E allora vedete qui i dati al 6 febbraio 2023 e quelli del 26 gennaio 2022. E vedete anche la situazione 22-23 e come i dati sono assolutamente positivi e ci fanno capire, speriamo che tutto sia stato accantonato per fortuna. A Villa Marina Senior Housing, ma prima addio a Telli Spettrali ecco perché partirà questo progetto per un residence over 65. Nel frattempo però il Comune chiede all'Inps di rimediare a questo degrado ignobile che c'è in quella zona molto vissuta nel periodo estivo. Il Fondo Aristotele Senior si occuperà di realizzare l'intervento di recupero dopo aver individuato sul mercato il soggetto che gestirà questa villa. Non è una privatizzazione, mette in chiaro l'ex sindacalista della CGL. L'Inps detiene quote rilevanti al controllo di tutta l'operazione immobiliare. Incontri per gli aspetti urbanistici e delizi per avere appunto i permessi opportuni. Villa Marina sarà conferita nel Fondo Aristotele Senior di Roma costituito dall'Enpap insieme all'Inps e in Arcassa per un intervento di senior housing tra pubblico e privato. E qui vediamo tutto il focus, 808 mila metri quadrati è la grandezza di Villa Marina. 17 milioni l'investimento dell'Inps e l'assetto proprietario dell'Inps detiene il 50% dell'immobile assieme all'ente I-Post, un fondo di assistenza per ex post telegrafonici. E poi il centro Assessori Ispettori per richiamare al decoro via gli espositori in via Branca e sotto i portici stop a bici selvaggia. Allora queste sono alcune regole che sono uscite proprio per il decoro del centro storico. Innanzitutto questa è riguardante appunto gli espositori di merce dal suolo pubblico lungo la passeggiata del quadrivio. Devono essere assolutamente tolti. L'assessore Francesca Frenquellucci ieri mattina è entrata nel negozio Bazar di via San Francesco rammentando al gestore cosa dice il regolamento sui Deors. Quindi ieri Assessori Tecnici hanno illustrato il lungo e il largo, il centro, nessuna via esclusa da via Branca, via San Francesco, piazzale Matteotti, fino ai vicoli, alle spalle del palazzo comunale. E poi andiamo avanti. Ecco, qui potete leggere la notizia in modo più approfondito riguardante questa ragazza che minorenne ha denunciato i suoi genitori. Niente uscite la sera con le amiche, fugge dalla famiglia e la denuncia. I genitori musulmani non possono ora avvicinarsi alla famiglia, alla figlia, scusate, ne ho 18enne, ma negano i maltrattamenti. E quindi questo è il caso. Questa ragazza vive lontana dai suoi genitori dopo averli denunciati. I raid punitivi al campus si valutano i lavori utili. Il processo, abbiamo visto, è stato spostato a giugno per questi ragazzi minorenni. Probabilmente si valutano per loro i lavori socialmente utili. Il territorio stoppa gli impianti fotovoltaici. In Regione il no è trasversale. Unanimità contro i progetti di Monte Calvo in Foglia e Sant'Angelo in Vado. La battaglia bipartisan, quella che sta unendo la politica contro gli impianti fotovoltaici. In modo particolare stiamo parlando di Monte Calvo in Foglia e Sant'Angelo in Vado. Da una parte il PD primo firmatario che dice no ai progetti nelle frazioni di San Giorgio e Borgo Massano. Il ripristino, il foglia esondato, partono oggi i primi interventi per sistemare con urgenza la zona dell'ex galopatoio per 58 mila euro. E poi a Urbino, l'aula al Bramante, IMAB si conferma amica della scuola. IMAB è una grande azienda, IMAB Group, con la preside Smacchia. E qui vedete l'aula attrezzata con la donazione data dall'azienda. e quindi donate attrezzature e arredi per realizzare un nuovo laboratorio a Fermignano nella scuola Bramante, nell'istituto comprensivo. E poi a Fano, contro il freddo in classe, con il cappotto, la corsa per migliorare i riscaldamenti. Questo è il caso delle temperature veramente rigide che si sommano al caro Bollette. Allora l'assessore Brunoli dice un impegno di migliaia di euro. Prendiamo subito provvedimenti e già alcuni interventi sono stati fatti negli istituti scolastici fanesi. E vediamo anche cosa succede nella vicina Cattolica. I primi dati provvisori dell'andamento turistico sono stati forniti dal servizio di Statistica dell'Emilia Romagna. Il turismo torna a crescere a Cattolica. Si rivedono molti stranieri. I dati di Cattolica nell'analisi della regione superato l'effetto della pandemia. Ed ora andiamo allo sport. Adesso la VIS vuole vendicarsi del derby shock all'andata a Rimini finì 5-0 per la squadra romagnola. I ragazzi di Brevi ora sognano di dare una gioia ai tifosi. Un derby a cui la VIS si presenterà da 14esima, quota 27 punti, due in più della zona play-out e dire che i biancorossi hanno pure una partita in meno, quella non disputata per impraticabilità del campo. A proposito di ufficialità, la gara verrà giocata al Benelli mercoledì prossimo il 15 alle ore 18. Ora il Fano ci crede di più. Il DS Dannelli analizza il momento positivo della squadra che è tornata finalmente a farsi sentire l'area dei play-out. Continuano le assenze importanti ma adesso la rosa a disposizione di Mosconi è più ampia. E allora vediamo anche le altre notizie. la VIS blinda la difesa. Bacayoko è recuperato. Il difensore si è allenato regolarmente dopo la botta subita da Montevarchi. Lavoro a parte per Fedato che potrebbe tornare a disposizione con i Rimini. E allora vediamo anche qual è la prossima il derby con Rimini in programma domenica alle 14.30. Fano tanto di Nappello questo titolo ironico. In campo c'è l'assistman gol spettacolare a Pineto e cross vincente per la rete di Broso sabato scorso. Il centrocampista dice le palle inattive sono la mia specialità e spesso decidono. E qui vedete appunto Nappello il giocatore che è in azione con il Porto d'Ascoli. Sistema Repesia VL più forte delle assenze. E qui c'è un meccanismo perfetto che al momento sta portando bene per l'allenamento della squadra della Carpegna Prosciutto. Il coach croato ha reso tutti utili e nessuno indispensabile. Lo dicono anche i numeri delle vittorie con il roster incompleto. Nonostante l'incompletezza e gli infortuni della squadra la squadra sta andando davvero molto bene. La VL ha vinto 5 partite su 7 mentre le mancava Tambone ne ha vinte 4 su 6 da quando le manca Mazzola tre delle quali pure senza Delfino senza negare che sia più faticoso giocare incompleti. Quella della Carpegna Prosciutto è una resistenza che racconta come questa squadra è riuscita finora a superare le difficoltà che si sono presentate. E poi vediamo anche la notizia, le altre notizie VL niente delusioni la Carpegna Prosciutto vuol chiudere bene la seconda parte di stagione prima della Coppa Italia. Coach Repesa elogia Delfino domenica ha dato il suo contributo dimostrandosi un capitano vero. Andiamo a vedere il meteo oggi ho preannunciato che sarebbe stata una giornata piuttosto soleggiata allora vediamo il meteo cosa dice il tempo in peggioramento tra pomeriggio e sera con piogge nevicate sin verso la costa tra Scolano e Fermano il clima è sempre invernale un po' di sole che fa capolino ma insomma a tratti perché comunque sarà una giornata ancora fredda e nel pomeriggio andrà a peggiorare la situazione per quanto riguarda il tempo. Ed ora noi andiamo a vedere invece cosa ci aspetta su Rossini TV come sempre tanti programmi che trovate sulla nostra emittente in tutti gli orari dalla cucina allo sport gli approfondimenti gli speciali televisivi gli eventi che raccontiamo della nostra provincia questa sera vi raccontiamo un evento che c'è stato presso il centro estetico naturalmente bella che è il nuovo centro estetico che c'è all'interno della grande bellissima azienda che si chiama La Saponaria e in questo incontro si è parlato di salute e prevenzione per un corpo sano un appuntamento molto interessante che vi consigliamo di seguire il telegiornale come sempre con tutte le notizie della giornata lo potete vedere sia in diretta alle 19.40 ma in replica anche alle 20.40 oppure se state svegli alle 23.30 ma anche il giorno seguente e vi ricordiamo anche di scaricare la nostra applicazione è gratis è comoda da usare semplicissima potete averla nel vostro telefono nel vostro cellulare vi permette di vedere Rossini TV in qualsiasi posto anche fuori dalla regione Marche vi permette di mandarci in tempo reale delle segnalazioni mandarci video foto con il pulsante insomma apposito la categoria apposita potete anche contattarci per fare pubblicità sulla nostra emittente così come potete vedere le notizie e rivedere i servizi del telegiornale quindi è un'applicazione molto molto utile poi il numero delle nostre segnalazioni che è il 370 366 72 10 è un numero utile per mettervi in contatto con la nostra redazione se invece volete decidere di pianificare un po' di pubblicità su Rossini TV con tutti i nostri tantissimi servizi servizi anche video videoriprese foto insomma di tutto e di più per la vostra comunicazione contattate il numero fisso lo 0721 26337 e fisseremo un appuntamento con voi e con la vostra nella vostra azienda grazie di tutto grazie per essere stati con noi buona giornata grazie per la vostra buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me buongiorno al latte dal caffè buongiorno a chi non c'è e al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vede io vorrei è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te buongiorno al latte buongiorno al latte